Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo non so il numero episodio di Pokémon Survival Island. Nello scorso episodio ragazzi abbiamo sconfitto definitivamente lo Steelix quello lì insomma avete capito ma fuie si chiama e siamo andati in un tempio che io non so come continuare a esplorare e evidentemente non lo sapete neanche voi perché avete provato a tirare un po' a caso provato un po' di soluzioni ma non ci si riesce e quindi ragazzi sono andato un po' a esplorare per vedere che cosa potessimo fare in questo episodio ho trovato questa fantastica grotta che non ho ancora visto e che andremo a vedere adesso. La squadra è la solita a parte Odish che sta morendo adesso lo curo mentre vi dico che se trovate dei Pokémon con dei livelli diversi è perché ragazzi ogni volta che stoppo la registrazione di sto gioco di merda io mi dimentico di salvare e mi crash al gioco non so per quale motivo lo fa. Di conseguenza ragazzi ho dovuto rifare ancora un episodio intero già la vita fa schifo comunque in ogni caso prima di proseguire un'altra cosa lo dico per i più disattenti per quelli che non l'hanno ancora saputo. Quella che ho in faccia che mi state chiedendo da due settimane che cos'è è acne è una malattia della pelle che sto curando con dei medicinali anche potenti è uno dei motivi per il quale potrebbero non uscire dei video insomma hanno degli effetti collaterali. In ogni caso ragazzi se dopo averlo detto in questo video vedrò altri commenti del genere a meno che non siate nuovi del canale io tenderò a eliminarli per il semplice fatto che comunque intasano la sezione commenti. Ma detto ciao ragazzi lasciate un mi piace per sostenere questa serie e buttiamoci dentro a questa grotta che non so assolutamente cosa ci sia in realtà. Oddio c'è tipo una nebbiolina? Stai scherzando? Questa è una nebbiolina e penso ci siano anche selvatici. Sembra tanto grotta di Glatt raga non so non so se... ok primo selvatico vediamo chi si trova. Oddio una zona raga il pokemon del rocet ok ok però furret davanti non è proprio il top. Metterei quasi quasi raga Oddish per il semplice fatto che se i pokemon sono questi lui è Absorb se la cavicchia e tra un po' dovrebbe anche evolversi tra l'altro. Ok interessante sto posto queste cose qui se non ho mai capito cosa fossero e probabilmente mai lo capirò. Spero che non sia labirintica sta grotta tra l'altro per arrivarci ci ho messo 40 anni raga perché era lontanissima ma è puntualmente cos'è labirintica come Cristo in croce. Oh non so perché ho fatto questo esempio raga non chiedetemi. Cioè allora io ho appena detto che ci sono pokemon di tipo roccia no? Perché il mondo deve far cagare? Me lo spiegate voi gentilmente allora io ci terrei a non subire troppi danni. Tra l'altro ho delle bacche piantate da qualche parte in giro per la mappa e nulla allora super sonic perché per un mondo più più bello. Ok più family friendly. Ok dove sono uscito da tutt'altra parte però aspettate io non volevo uscire volevo esplorarlo un po' meglio sta grotta perché metti che ci sono strumenti strani cose bellissime sarebbe anche carino andare a vedere un po' in giro no? E mi piacerebbe anche andare a vedere quel ponte. Ah quel ponte ciao quel tempio sto raga sto impazzendo. Tra l'altro ragazzi volevo anche dirvi che c'è un luogo chiamato tipo damp che dovrebbe essere qualcosa della serie palude se non ricordo male. Però è una zona incompleta vuol dire che in questa versione del gioco che penso sia l'ultima se non sono così stupido di aver scaricato una versione precedente non dovrebbe essere... Oh un pokemon di tipo roccia dio è tra noi e c'è 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 abbiamo in squadro via no no che odio raga è un momento a piangere tra un po' dai forza vediamo un po' di far qualcosa di veloce così mi sale anche di lì l'odice raga che muore. Chissà perché poi proprio sul mento raga sto impazzendo rockfruise criti ok vai giù vai giù vai giù vai giù ole forse il livello 19 per odish raga lo scopriremo adesso. Sì per forza 401 punti esperienza dovrebbero perfetto mega drain non è che me lo impari per sbaglio no ok adesso però raga è paralizzato quindi metterei davanti nidorino senza apparente motivo in realtà però lo facciamo. Comunque ragazzi se scoprite come andare avanti nel gioco fatemelo sapere c'è più che altro come... Oddio sì 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 che figo i sotterranei ok fermi. Ah no non è taccio è vero no 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 aspetta di qua non c'è nulla. Oddio cosa sei... No raga è una roccianima raga è una roccianima è una fottuta roccianima. Chissà che non posso tornarci utile per il tempio raga sapete che questo qua è un oggetto molto mistico ok vediamo se cos'è ok questo qua dovrebbe essere un fra virgolette banale pezzo stella. Sì cos'è ah è una roccia di merda questa queste non servono a un cazzo se non ricordo cioè boh servono a poco più che altro. Ok citerei a sapere cos'era l'altro strumento magari era qui oppure qui 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 no qui. Ok odd keystone odd keystone non è la roccia. Sapete che mi viene il dubbio che possa essere incastonata nel tempio perché vi ricordate c'era una sorta di vediamo... Forse odd keystone è... Oddio sapete che ma non penso che si chiamasse odd keystone la roccianima in inglese. Cioè mi sembra assurdo più che altro perché odd keystone. Oddio raga sapete che non lo so perché vi ricordate che c'era una sorta di non saprei bene chi come rientranza nel muro dove c'era il tempio. Dove io stavo già pensando che andasse ficcato qualcosa mi viene il dubbio che possa essere la roccianima. Mi viene il dubbio che possa essere davvero la roccianima. Quindi direi raga che io continuo a esplorare sta zona qua che sembra abbastanza... Oddio che figo! Eh non ho pokeball però mi sa perché le ho sprecate per uno stronzo nell'erba dovrei farmene. Eh vaffanculo potevo svegliare... Uh strumento. Vediamo un po'. Expert belt che non penso mi possa servire a molto magari servirà per qualche crafting. Controllerò poi. Anche perché raga nel nuovo rifugio tra le altre cose ho scoperto che i crafting sono più semplici e semplici nel senso che... Ti dà l'oggetto da craftare e tu lo puoi... Lo puoi... Craftare. Giustamente no? Ok per continuiamo a trovare selvatici infami soprattutto continuiamo a trovare zubat del merda. Tra l'altro questo posto qua è abbastanza carino come ambientazione mi piace molto. Cioè quella di sfondo delle lotte intendo raga. Ok. Ehm... Io non so se sto prendendo tipo la strada giusta o se sto andando... Ah! Ground Jam? Ehm... Merda. Com'è che si chiamava questa in italiano? Non mi ricordo. Ehm... Ah! Biju! 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 Giusto! Biju Terra tipo si chiamerebbe in italiano. Sarò poco ok. E' una cosa abbastanza inutile. Però... Oddio! Wishmur raga! Ehm... Madonna! C'aveva un soprannome di merda questo qua in una mia serie. Ehm... Dettagli andiamocene. Ok. Allora andiamo di sopra di qua visto che... Mi so... Ok. Ok. Perché si è rivelato un vulcano sto posto? Non lo voglio sapere. Non lo voglio sapere. Siamo già a 9 minuti. E abbiamo quasi finito di esplorare questa groccia. Più che altro spero. Perché altrimenti vorrebbe dire che è infinita. Vediamo se qua c'è qualcosa di particolare. No. Ok. Prima di attraversare quel ponte vorrei vedere tutta questa zona qua per il meglio. Tra l'altro penso che sia... Spoink! Cosa c'è da Spoink in una miniera? Raga. Non lo sa neanche lui probabilmente. Madonna che bello raga. Sino confirmed i sotterranei. No. Sono rimasto felice di vedere i sotterranei raga. Sarò davvero sincero con voi. Ok. Madonna c'ho... Ecco. Un altro degli effetti della medicina è che c'ho una salivazione della madonna. Escape rope. Ok. Questa qua potrebbe tornarci utile in futuro. Poi ragazzi. Finito questo video io andrò a controllare se si può ficcare la roccianima nel tempo. Nel tempo. Oggi non so parlare. Nel tempio. Cristo Dio. Creepy. Sveglia. Mi sono tirato una botta sull'acne. Mi sono fatto malissimo. Ancora Nosepass. Tra l'altro dovrebbe avere Sturdi sto Pokémon. Allora. Fuga. Magari fuori parte proverò anche Evolvere Odish. Già che ci sono. No. L'ho visto delle scale. E poi magari nel prossimo episodio vedremo anche di uscire da questa grotta e di proseguire. Per ora direi di esplorarla al meglio. Fuga. Forza. Fuga. 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 Vattene. Comunità. No. 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 Secondo posto in cui non riesco a entrare, terzo perché c'è anche la palude che non vi ho fatto vedere, ora io mi chiedo, non è che effettivamente il gioco non è completo e quel posto lì semplicemente mi sto facendo 3000 paranoie mentali, in realtà non si può proprio entrare, potrebbe anche darsi a sto punto raga, però mi sembra strano che facciano un intero tempio e poi te lo blocchino così, senza dirti neanche Westron se non puoi passare. Suocera, suocero, suocero in questo caso non ho le pokemon raga che sfiga di merda, ok vediamo se c'è qualche altra zona da vedere qui, no, allora raga sapete cosa vi dico, provo a fare una cosa, provo a tornare indietro, faccio un save state qua adesso, torno indietro, proviamo a vedere se nel tempio si può fare qualcosa di particolare, mettiamoci uno slot 2 così senza apparente motivo, vedo se nel tempio con la roccianima si può fare qualcosa e poi vediamo un po' cosa fare di questo episodio, quindi vai col cat, grazie. Ok ragazzi eccoci qua tornati nel tempio, adesso scopriamo, scopriamo se questa roccianima, se ho avuto una buona intuizione più che altro, non ne sono così convinto però sarebbe una gran figata, vabbè nel caso nel prossimo episodio faremo altro, vediamo un po' se magari facendo bag e ficcandocela dentro può tornare utile, no ok posso solo fare give però un'utilità potrà avercela cioè nel senso, voglio dire, possibile che sia così inutile, vediamo se magari facendo così, no niente da fare raga, a sto punto deduco raga che questo tempio sia semplicemente una zona chiusa e che non serva a niente e quindi nulla, peccato perché sarebbe stato molto interessante vedere che cosa ci sarà dietro, però evidentemente almeno per ora non è disponibile, quindi ragazzi altro taglio e ci rivediamo verso la fine della grotta nella nuova zona che abbiamo scoperto insomma. Ok perfetto ragazzi eccoci qua, tra l'altro vi volevo informare che nell'abbandoned mine dove abbiamo trovato insomma quelle robe lì si può scavare più e più volte e infatti ragazzi fuori parte ci ho riprovato un'altra volta e ho trovato una hardstone, magari farò delle sessioni di scavaggio fra tante virgolette e più avanti, ma per ora direi che possiamo farci due passetti così proprio arroganti in giro per questa zona che sembra tagliata a metà, interessante, davvero. Comunque ragazzi volevo anche dirvi che ce l'ho già in programma, nel prossimo episodio oltre a esplorare questa zona qua magari fuori parte, oddio cos'è sto, sto pisellone, ok dammi il pisellone, viva il family friendly raga questo video me lo blocca nel 18 paesi, la zona di qua sembra bloccatissima e diciamo sviluppata con il culo di capra potremmo dire, ragazzi nel prossimo video se non ci sarà nulla di che da fare in questa zona qua andremo anche ragazzi ad esplorare la grotta all'inizio del gioco, cioè avete presente quella dove serviva taglio, tra l'altro non ho mai insegnato merda taglio da quando mi si è buggata la roma, rifacciamolo raga perché lui merita di poter tagliare gli alberelli, appunto ragazzi tornerò all'inizio della mappa e esploreremo quella grotta, come mi direte ragazzi proveremo anche a catturare lo stilix infame, così almeno ce lo leviamo si spera dalle palle e poi potremo andare in giro liberi per la regione, però per ora direi che possiamo esplorare, dato che tanto ho calcolato che in teoria di tempo dovremmo avercene perché farò dei tagli colossali, tipo qua registro 20 minuti ma fate conto che 10 ce li avrò messi ad andare e tornare, quindi, no stai fermo figliolo, ok perfetto, però raga sta zona qua mi sembra che non ci sia nulla, forse non è ancora sviluppata, in effetti il gioco è in assoluta demo penso, però non mi sembra di aver visto nulla di importante, e raga a sto punto non so quanto durerà ancora questo let's play perché a parte le zone con taglio da poter esplorare non penso che ci sia nulla di che, qua abbiamo trovato una bacca e va bene, però non si può andare da nessuna parte, quindi questa parte qui è decisamente andata a farsi fottere, perfetto, allora fuggiamo da questo manchi ragazzi, io vi do appuntamento nel prossimo episodio dove cercherò di craftare le pokeball per prima cosa, ah e fatemi sapere se sapete qualche cosa di particolare riguardo a questo gioco, mi sarebbe molto utile, appunto ragazzi volevo dirvi che andremo, andrò più che altro a craftare delle pokeball fuori parte, proverò a catturare mefuglie, lo stilix maledetto, e poi andremo a esplorare quelle zone che richiedevano taglio, che se non sbaglio dovrebbero essere due, dietro al tempio e in una caverna vicino al tempio, se non ci sono altre zone appunto da vedere, tipo di qua io sono già salito vero? Assolutamente, assolutamente sì, quindi nulla ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, se così vi invito come al solito a lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti, mi raccomando passate i social in descrizione per rimanere sempre aggiornati e premete la campanella per ricevere i feed, detto ciao noi ci becchiamo in un prossimo video!